Noi siamo qua riuniti e felicemente uniti e quindi ci vediamo, ci toccacciamo e ci sentiamo per lavorare tutti insieme e quando il quartiere ti combatte a muro duro, noi a muso duro rispondiamo con un atto da muro e quindi d'amore per il quartiere stesso e oggi si chiacchierano ma poi tutte queste chiacchiere parteciperanno e parteciperanno e precipiteranno e si faranno pittura, colore e vita nuova. Grazie